Il mio punto di forza è la memoria. Riceviamo dai 30 ai 90 clienti al giorno. Io sono artista in tutto quello che faccio. E qui viene il bello. Beh, io... Io sono sempre qua. Guardo vostra TV bellissima. La gente va matta per il cibo americano. Il nostro è un lavoro intellettuale. C'è mai partecipato a delle odi? C'è un sacco di pussi durante le fashion week. Il 90% degli uomini è insoddisfatto. Sono qua tutti a cercare l'orgasmo eterno. Capito dove siamo? Capito Guevara Straccia Capito 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 ęd Grazie a tutti